dai due forzuti a porto e si non non Grazie a tutti. E' un passaggio a sinistra. No ma l'abbiamo appena pulito il cacchio. Ma che te frega di quello lì, lascialo lì. Vai, Pietro, uccidi. Vai. 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 Vieni qua Ale, vieni indietro. Senti i cani? La via dei cani, per quel motivo lì. Mi senti sotto? Allora, dagli forte fino a dopo la pianta. Cerca di puntarla su diritta. Non pensare di fare la curva, la curvi dopo. Se no non arrivi su. No. E' figaro ragazzi Che perfetto Posso? Scusa in prima era come cazzo devi fare ad andare su in prima? No già io non riesco Vai Lasciami Lasciami Ma bastardo Qua eri in prima eh Io sono in terza adesso Quelle cose qua almeno almeno seconda Falla tutta in seconda Facciamo fuori? Ma la sei chiche Sennò stiamo qua fino a un'ora e mezza In prima era Qui cazzo vendersi Ho fatto meglio con la sua Dai oh Gio Figa quando si spengono No no ma perché sono io in marcia Perché l'ho spenta io in marcia Allora cazzarola Ok Allora cazzarola 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 Grazie a tutti. C'è? Eh, tagliamo. C'è la motosega, eh. Out. Dobbiamo tagliare. Smorta tutto. C'è quella... Minchiarella. No, c'è quella motosega al vito. C'è la murata o la taia? No, no, sistemata la sua. Cazzo, abbiamo tagliato giù tutte queste. Quel pezzo qua, oh, è disgraziato, Figaro. È un'altra pianta. Ma cazzo, ma grossa stavolta. Le abbiamo tagliate tutte, eh, Figaro. E noi ci siamo passati stavolto pomeriggio. Porca trota, oh. Che coglioni. Questa, però, è accesa. Questa, però, è accesa.